In compagnia di Stefano Dorigo, direttore tecnico del Centro Chinè di Treviso, stiamo vedendo il nostro Giacomo Seno che sta correndo su questa tapirulana antigravitazionale. Che funzione ha la macchina, Stefano? Allora, questa macchina sviluppata dalla NASA, praticamente cosa serve? Serve per far recuperare prima sia la camminata che la corsa negli atleti. Questo permette di togliere fino all'80% del peso corporeo e quindi in caso di strappi, di fratture o di lesioni di qualsiasi tipo, dell'arte inferiore, appunto permette un più veloce ritorno in campo e un più veloce recupero. Stefano, se non erro, questo è il medesimo macchinario che usava Cristiano Ronaldo a Real Madrid e che ha chiesto alla Juventus di acquistare? Sì, questo è lo stesso identico macchinario che utilizza appunto Ronaldo alla Juventus e ce l'ha qualche squadra in serie A e ce l'abbiamo sia qui a Treviso che nel centro agri di San Mendelmiano. Abbiamo visto che si gonfia questa specie di sacca. Sì. E che funzione ha? Praticamente prima il paziente viene pesato e dopodiché si può praticamente all'1% variare il peso del paziente. Cioè, un paziente pesa 100 kg, possiamo farlo pesare fino a 20 kg, diciamo. Questo è proprio per permettere un anticipo nei tempi di recupero della corsa o della camminata, in base insomma al tipo di paziente o di atleta, in questo caso come il seno. Questo è principalmente l'utilizzo che se ne fa. Le tempistiche quindi vengono ulteriormente accorciate rispetto a un tapirulano normale? Assolutamente sì. Teniamo conto che se su un tapirulano normale, dopo una lesione muscolare, si può ricominciare dopo due settimane a correre. Qui già dalla prima settimana, ma già dai primi giorni si può già cominciare a camminare, alla prima settimana già a correre con un 50-60% in meno di carico. Quindi i tempi di recupero diminuiscono tantissimo rispetto a un tapirulano tradizionale. Quindi per tutti i tifosi trevigiani e non solo, chi vuole venire a recuperare in breve tempo la propria forma fisica con il tapirulano gravitazionale può venire qui alla Kine. Certamente, siamo aperti a tutti.